Sono due i dati fondamentali che scaturiscono dalla 65esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, organizzata dall'animo immacerata, e cioè che diminuiscono gli infortuni ma aumentano le malattie professionali. La giornata di ieri è stata anche l'occasione per ricordare i tanti lavoratori che hanno sacrificato la propria vita o la propria salute per il lavoro, ma anche per riflettere sul lavoro come valore basilare della persona. Dopo la Santa Messa nella Chiesa di San Francesco e la deposizione della Corona dall'Oro al Monumento dei Caduti sul lavoro in via Prezzolini, si è svolta la cerimonia civile nella Sala del Teatro Parrocchiale alla presenza del Presidente Provinciale Annel Silvano Mercuri, della Vice Presidente e coordinatrice del Gruppo Donne Maria Piazzurro, del Vice Direttore Inail Gianluigi Aquilino, della Vice Presidente della Provincia Paola Mariani e dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune Narciso Ricotta. Al Vice Direttore dell'Inail Aquilino è toccato il compito di presentare i dati. In provincia di Macerata nel 2014 sono stati denunciati 3.946 infortuni con una diminuzione del 2,9% rispetto al 2013. Al 31 agosto di quest'anno, rispetto all'anno precedente, si è verificato un ulteriore calo nella misura del 9%. Infatti si è passati a 2.360 casi, di cui sei mortali, compreso purtroppo quello avvenuto mercoledì scorso all'hotel house di Porto Recanati. Per le malattie professionali, invece, prosegue la tendenza all'aumento delle denunce. 1.130 nel 2014 con un aumento del 25,83% rispetto al 2013. Nel 2015 c'è un incremento del 32% rispetto ai primi mesi del 2014. Infatti sono stati 958 i casi denunciati al 31 agosto.